Allora ragazzi vi porto a vedere il risultato del famoso progetto Impatto Zero di LifeGate con il quale si sono compensate le emissioni di anidride carbonica piantando degli alberi e ovviamente noi ci andiamo caro Luca, caro Andrea a Zero Emissioni Certo le batterie al litio hanno un impatto ambientale però queste batterie al litio la Nissan le recupera e le riutilizza Ed eccoci arrivati nel parco del Ticino a zero emissioni e zero rumori Da qui parcono i 26 ettari riforestati grazie al progetto Impatto Zero di LifeGate Sono 26 ettari di bosco che assorbono ogni anno una quantità di anidride carbonica Pari a quella emessa per produrre 18 milioni di fogli di casa Insomma per salvare il pianeta bisogna innanzitutto Ridurre le emissioni E poi compensare le altre Hanno imperato bene ragazzi È Sì